la cellula di un altro mammifero adulto. La nascita della pecora d'oli rappresenta sostanzialmente la partenza della ricerca sulle cellule staminali. E proprio questo ha rinfocolato e sta rinfocolando oggi il dibattito su quanto sia giusto o meno intervenire così pesantemente su quello che sono un po' i cardini della vita. Il dibattito sulla bioetica si svolge a più livelli. E c'è un livello più generale che dice che da questo noi potremmo alla fine arrivare a un mondo fatto di superuomini dove il censo e soprattutto la possibilità economica può garantire l'allungamento della vita. Ma rimanendo più coi piedi per terra, il grosso del dibattito è sugli embrioni. Sappiamo che con le cellule staminali si guariscono molte malattie che un tempo erano anche incurabili. Per contro il dibattito è se sia giusto coltivare, tra virgolette, degli embrioni umani semplicemente per curare le malattie e quindi distruggere una vita al suo nascere. Insomma, è chiaro che questi sono dibattiti molto difficili che non sono solo scientifici ovviamente, ma che investono tutto il futuro dell'umanità. Ecco, in questo caso io credo che la politica in qualche modo sia assente. in questi anni si è tentato di fare molte leggi e molte associazioni mediche, eccetera, sono intervenute. Il convitato di Pietra è una politica che ancora non sa decidere su un argomento così decisivo.